Un altro incendio dimampato questo pomeriggio, domenica 25 marzo, a Rosta, presso l'ex fonderia FGR, in via Sant'Antonio di Ranverso. Sul posto, per domare e spegnere le ferme, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, di Avigliana, Rivoli, Torino, Rivalta, Borgone, San Maurizio Canavese e MBCR, oltre alla polizia locale e alla protezione civile. I vigili del fuoco sono riusciti a domare gli incendi dopo circa tre ore. Anche qui, come stanotte a pianezza, la densa colonna di fumo era visibile dai comuni di Mitrofi. All'interno della fabbrica, i vigili del fuoco hanno trovato parecchio materiale abbandonato, plastica e altro, sconosciute al momento le cause del rogo. Grazie a tutti.